musica ok guys eccoci ritornati in un nuovo episodio di dragon ball z vudokai 3 prima di riprendere come al solito ragazzi fermi un momento tutti quanti fermi perchè lì mi c'era un punto cosa sarà mai Ah, Gokunさん,こんにちは So iえば,五天も天下一武道会に出るらしいですね Aいつ, hanzan文句言ってましたよ デートの約束してたのにって O互い我が子の軟弱ぶりには苦労するな 本当だ!まあ、平和だっちゅうことだな 面白くなりそうだ 俺も出るか トランクス、お前も出ろ 小遣いを半分にされたてなかったからな カカロット、お前に出場するのは本当ですか? Oh, fuori fuori! Ho deciso prima! Perché? Perché non è venuto a questo punto? Non è venuto un'altra cosa! Ma, vi faccio un'altra cosa! Allora, vi vediamo! Solamente Ci sarà C'è la birra anche Dov'è la mia birra? No, non lo so fare Shank Quando fa Richard Rawlings Comunque ragazzi Mi raccomando Sempre massimo supporto E lasciate tanti Bei like Per questo nuovo episodio Spedix Ecco però qua ragazzi C'è solo Omega Se non sbaglio Come Evil di GT Quindi Tecnicamente qua Non è che c'è il sagone Qua ci sarà solamente La saga piccola La saga corta Quindi Penso sia la battaglia Con Ubb E basta Se ne ricordo bene Comunque ragazzi Io non trovo più una mazza Giusto per aggiornarvi Quindi Fermi lì Fermi lì C'è qua Ah beh punto Lotto di merda Vabbè Raga non c'è nulla Quindi andiamo Andiamo al torneo mondiale Andiamo a sfidare Ubb Dov'è Kakarotto Kisama no Ittayatsu Ma Tecnicamente Oteno si mì da Mìthè n'è Va v'caru Tecnicamente Rabe Nàà Rabe Vubdou Mìthè n'è No s'eta Bùdou Kwi ... Come da un'altro che si tratta di un'unità, e poi si tratta di un'unità di una scuola! Ma... ma se... ... che è un gatti che si tratta di un'unità... Ma... non è vero... ... adesso è ora di chiama, grazie! Eh... ah... sì, grazie a te! Ma qua dai, è un mix di canzoni, perché qua c'è una addirittura delle canzoni di Ultimate Tenkaichi Raga, io qua non ho il quarto livello, ovviamente penso di avere solo il terzo, giusto? Quindi lo utilizziamo E ovviamente non abbiamo la... Abbiamo la Genkidama, tecnicamente Però... Olè, dai che vai fuori, dai che vai fuori, mandiamolo fuori, raga Madonna raga, ma che sono stronzo, che sono stronzo, mamma mia Aumentiamo la salute e ci siamo Sì, è vero, è vero Ma è vero, è vero, è vero, non può essere più potenti A presto, dovessi fare una scuola? il primo punto è che non si tratta di vivere la paura di pazienza non si tratta di vivere la pazienza di vivere ma non si tratta di vivere la pazienza più forte oggi Goku è stato un gioco Di Goku, almeno per il momento Poi ovviamente le battaglie Secondarie, tra virgolette Tutte quelle delle saghe nascoste Ecco, le faremo, vi mostrerò anche come fanno Intanto abbiamo sbloccato Jobe, quindi una nuova saga Però ovviamente noi ragazzi le faremo in no Vegeta, ecco Mannaggia, vabbè Iniziamo con Gon Bambino, perché tanto quella di Gon Bambino non dura Tantissimo, perché poi c'era Kid Gon Questa arriva solo fino a Namek, se non sbaglio Quindi non è troppo Grazie a tutti Sì 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 Le faremo tutte quante Ovviamente vi farò vedere anche come sbloccarle Perché magari No, magari qua c'è il Dragon Rata E vai raga Il Dragon Rata Dicevo, perché magari come voi Non tutti sanno come sbloccare tutte le saghe, no? Quindi, tanto vale fare una guida completa, ecco E ho trovato proprio quella che mi mancava nella storia di Goku Quella sette sterne Cioè qua lei non sono riuscita a trovarla proprio Non so se ci fosse la battaglia anche con Ome Raga, ce n'è già un'altra Già due, minchia Inizio promettente per Gon Vabbè perché sicuramente ce ne sono di più perché la saga di Gon è piccolissima Sei e sette, perfetto Vediamo se abbiamo fortuna e ne troviamo una terza Ma vedo difficile Perché questo Gon arriva fino alla Fermi là Arriva fino alla saga di Freezer e basta Raga, sto trovando veramente tantissimi zeni Il problema è che non so come spenderli Perché Cioè ragazzi, un'altra sfera Perfetto, ottimo Ottimo Scusate se cazzeggio così Però ragazzi, una volta che ci siamo Eh, una volta che ci siamo raga Facciamo una bella cosa completa No, G Cioè raga, ma sono tutte qui le sfere Cioè, sono tutte qui Eh, porca miseria Tutte qui sono Già la quarta questa Eh, cioè, porca miseria Sono tutte qui le sfere Tutte in questo scenario Possibile Eh, faccio qualche altro giretto di perlustrazione Anche se la vedo difficile Perché ci siamo altre Penso che le restanti tre siano su una Mech Oddio, anche due non sarebbe male su una Mech Eh, non sarebbe una cosa Beh, oddio, no Meglio tre su una Mech Sarebbe una cosa bilanciata Quindi è seconda degli scenari Mentre per Goku ce n'era una scenario Perché la saga Perché Goku È in tutte le saghe Quindi era ovvio Vabbè Non c'è più nulla Non c'è più niente Quindi andiamo a combattere Dovebbe essere la battaglia contro Radic No, qua contro Vegeta già Ma what? Senza il Masenko neanche Dovebbe essere la battaglia di Dora Non c'è più niente Non c'è più niente ... Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Questo è quello che io fai? Sì, sicuramente ho capito Mai, eh Meglio non sprecare queste occasioni Non c'è una mazza, raga Non c'è una mazza No, fermi, fermi A West City, forse No, East City, ok, vediamo Chi c'è? Perché si nasconde? Oh, Holon Ma what? Vabbè, grazie Non so cos'è, vediamo La rabbia Not bad Certo potevi darci qualcosa di più utile Vabbè ma ci accontentiamo C'è qualcosa lì alla montagna Noi la prendiamo subito Quel verme Urrà lo stesso abbigliamento di piccolo Cioè ci ha dato l'armatura di Junior Non ci voglio credere Ma che cosa? Cosa fa? Questa va bene E' buona Però Junior tipo Oh là c'è qualcosina Prendiamoci anche questa va Vediamo cosa è Ok Gohan non ti renderò la vita facile Piccolo fa sul serio Per me è la fine Solo un minuto Se non riesci a sopravvivere a questo Non potrai sopravvivere agli scontri futuri Se non vuoi morire dai il meglio di te Cerca di sconfiggermi Ok piccolo Grazie in anticipo E la madò l'ha sfasciato Ehi no piccolo L'ho preso Ma perché mi date abilità verdi? Frutti preparati Ok Ma va bene Va bene ok Però datemi qualche abilità che posso usare Qualche attacco E la madò Cioè datemi qualcosa di utile Per battere Junior Se no Senza niente Come l'ho combatto io E dov'è? Oh Ma datemi il masenco Maledizione Che cosa me ne faccio Di quegli attacchi Senza niente Di quelle abilità Senza niente E qua purtroppo ragazzi L'attressata c'ho Gli analogici sfasciati Facciamolo scaricare un attimo Aia Maledetto Di Junior Eh vabbè Ciao Aia Aia Junior è stato bloccato Però se avessi resistito un altro pochino Almeno Junior sarebbe stato fermo Ma facciamo una cosa Carichiamoci nel massimo Purtroppo non il masenco Olè E ora tocca a me Junior Olè Volevi eh Volevi cosa sia B Olè Eh cosa ho indeciso adesso Guarda andiamo per tentativa Niente ma fottuto Pensavo che non lo usasse più Maledetto Di un Junior Maledetto Maledetto Olè Ora vediamo se ci riusciamo Dai raga Olè Il primo L'importante è che non perdiamo al primo Quella è la cosa importante Oh Junior le busca Per tentativi Direi Olè Che culo Povero Junior raga Sfasciato E purtroppo Junior Dobbiamo far così Dobbiamo far così Perché non ho attacchi Olè Mamma mia ragazzi Ma è stata una battaglia abbastanza tosta Mamma mia Ma me l'ho sfasciato comunque E' passato un anno da allora Adesso sono più forte Due enormi aure sono giunte sulla terra Devono essere Sayan Sì ma tipo Ce l'abbiamo adesso il Masenko Manco per il cacchio Cioè non c'è neanche il Masenko Vendetevi conto Come vi fate combattere Sì c'è i teletrasporti Ma Qualche attacco ci vuole Fermi lì dove siete Cosa c'è qui? Punto interrogativo Altri 5000 zeni Però ho visto un secondo punto io Ma forse il torneo Chissà che c'è il torneo mondiale Qui eh Questo è il luogo in cui hanno combattuto Papà e il signor piccolo Papà e il signor piccolo Devono essere stati due combattenti eccezionali Al di là di ogni immaginazione Devo allenarmi anch'io Per diventare forte come il papà e il signor piccolo Tutto questo ambaradam per niente Non ci hai dato una mazza You go on Cosa servo? Forse c'è il sbloccatore Cosa? Cosa c'è qui? Cosa sei tu? Perché mi danno le pose di Recom? Che non c'è Non capirà il punto di lotta Maledetto Punto lot sempre mi frega Perché mi date le cose che non posso usare? Cose che non servono Maledetti Cosa c'è lì? Tornate indietro Uh Vediamo cosa c'è nella foresta Qualcosa di utile per favore Dove siamo? Il mio veicolo è rotto E non riesco a rintracciare Tensing Accidenti Signorina a questo posto non è sicuro Questa c'ha un mitra in mano C'ha un usi in mano Ti ammazza Che è? Ma che è sta roba? Eh cosa? Sì Un gomma di un dinosauro Ma cosa? Cioè Per cosa? Ma sbloccherà qualcosa almeno? Dammi una sfera almeno Non mi dà neanche una sfera Maledetti Vabbè Andiamo da junior Va che ho capito Che qua non si sblocca niente proprio Ma Fermi là C'era qualcosa qui a West City Gohan Sembra un'altra persona Eh Davvero? Ecco Sono appena rientrato in possesso di questo Cosa? Cosa ci dai? Cos'è? Cosa? Cosa ci dai? Ma che cosa mi interessa a me sta cosa? Ma datemi qualche maledetto attacco Però porca miseria Oh no Zerò come batto i Saiyan Oh Siamo in pieno giorno ed è calato il buio Cosa sta per accadere? Eh Siamo arrivati i Saiyan Adesso Goku ritornerà in vita Così Proprio così Minchia Proprio ha dato già l'ordine Union Cioè Ha già dato tutto Non ditemi già da Nappa Cioè da Vegeta Cioè Cioè da Dio Siamo arrivati a Giuste Siamo arrivati a Proprio V Io Con la prima sì Niente Mamma mia Junior che sei cattivo Poi mi la mandi contro i Saibai Ma almeno qua i Saibai non hanno Non sono due o tre Noi ne sono singoli e basta Questa non sbaglio c'ha la combo come Goku Gohan Quindi non è male Olè Vai Allora Proviamo con X va E vai E ora sicuramente premere di nuovo A Vediamo se ho fortuna Sì e vai Almeno si finisce subito raga Mamma mia abbiamo sfasciato il Saibai Dai dai qualche altra combatta così con qualche teletrasporto non ci può guastare Ragazzi è proprio la combo classica di Goku anche La stessa Dai E dai Ehi volevi Volevi Saibai Allora aumentiamogli un po' la difesa e un po' la salute va E ci siamo Cosa succede Gohan? Non preoccuparti inutilmente Goku arriverà presto Perché qua non doppiate Perché qua non doppiate? Perché qua non doppiate? Omaetatchi che hai detto son Goku Toi no Cacarotto è vero? Certo! Cosa cosa è? La Dicchia non ha avuto lato che non ha avuto lato, cosa vuoi fare? Questa prima, è sempre più forte. Sbagliare anche i ragazzi! Ok. Meno male che ci dai un po' di tempo, Vegeta, meno male. Certo che non è che mi dai. Dai, facciamo quest'altra battaglia e poi ci fermiamo, raga, dai. A presto. Ok, cerchiamo di fermare Napuzzo Però ragazzi, veramente Non ci danno neanche il Masenko Come cavolo è possibile sta cosa? Non ci danno neanche il Masenko Eh, vincchia, tutto tengo in sync ogni volta Ma perché lo fanno sempre in sync? Olè Olè Vediamo Y, dai Olè Forse ripriamo di nuovo A Quindi andiamo di B, dai, per sicurezza, va No, invece non c'è No, ci ha fregato stavolta, maledetto Maledetto di un Napa Tanto ti faccio male Cavolo No, volevo mandarlo su, Gohan Gravo Bravissimo, vieni su adesso tu Vieni su, vieni su, vieni su Ci facciamo un po' di combat, dai Via qua Via qua No, aspettate che ci carichiamo Dai, via qua Eh dai Volevo fare la tripla Sempre A, premio, ti sei incantato ad A Niente, A e B, vabbè, ok Per esclusione andiamo di nuovo di A, va Sei scemo No, non è scemo Però queste cose erano veramente fighe, questi mini giochini Vabbè, minchia, si è dato a ammazzare così Ho capito che siano troppo forti, ma addirittura a perdere così, no Napa E non mi meraviglio di te Vabbè No, aspetta, fermi, fermi, no Una la difesa la mettiamo alla salute, va Vabbè 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 Cacolò Sì, tutti i nostri amici, i nostri amici, i nostri amici. Allora ragazzuoli sono sbagliati, invece di fare sì ho fatto no, vabbè, comunque ragazzuoli ci interrompiamo qui e spero che per quest'altra parte vi sia piaciuta, vi potete lasciare un bel like, condividere l'episodio per supportare la serie, iscrivervi al canale e iscrivervi al canale, attivare la campanella in modo di ricevere tutte le notifiche del canale, Tutti i link di video sono sempre in descrizione e trovate appunto al prossimo episodio di Budokai 3, ci vediamo guys, ciao!